Come impegno per Bassano non amiamo la polemica e quindi vogliamo stare distanti da quello che è il populismo o quello che si sta montando rispetto a questa situazione. Abbiamo solo preso posizione rispetto ai toni e contenuti usati dalla consigliera e quindi da questo punto di vista ci dissociamo rispetto a questa presa di posizione. Il vice sindaco Roberto Marin parla a nome di tutto il suo gruppo impegno per Bassano dopo il comunicato al vetriolo che fa seguito alle dichiarazioni della capogruppo della lista Pavan contro vaccino e green pass. Incriminata la frase shock meglio morire di covid piuttosto che vaccinarmi assieme a una serie di affermazioni che la lista di maggioranza definisce gravi e offensive per la cittadinanza e in generale per la situazione che a livello nazionale e mondiale stiamo attraversando a causa della pandemia. Qui non si tratta di libertà di espressione che rimane un diritto inviolabile di ogni cittadino e va pertanto rispettato scrivono gli esponenti di impegno per Bassano ma di aver superato il limite del reciproco rispetto andando a toccare un tema delicato con frasi che onestamente imbarazzano e preoccupano allo stesso tempo dicono. Dal suo canto Marin cerca di smorzare i toni ma su una cosa non transige. Nel momento in cui si è consiglieri comunali si deve anche fare i conti con l'elettorato e il fatto che comunque si rappresenta l'intera città. Cosa che secondo impegno per Bassano Brunelli avrebbe scordato e se il vice sindaco scarta qualsiasi azione forte nei confronti della capogruppo della lista Pavan così come richiesta dalle opposizioni è d'accordo sul fatto che sia necessaria una discussione in maggioranza. Una maggioranza che, è inutile negarlo, sta scricchiolando ormai da un bel po' di tempo e sulla richiesta delle dimissioni della consigliera Brunelli dichiara Sibillino. È una scelta esclusivamente personale.